Tutte e due le partite di questo weekend sono state molto buone Secondo me perché abbiamo fallito la settimana scorsa in un modo che non ce l'aspettavamo sicuramente Quindi ci siamo svegliati in allenamento e siamo arrivati pronti per fare la differenza E per fare quello che dobbiamo fare per cercare di andare ancora in finale Quindi sono molto contento per tutte e due le partite del weekend E spero che continuiamo in questa maniera fino alla fine del campionato Soll'inizio, oggi è stato un'altra cosa che si tratta di un'altra cosa E' stato un'altra cosa che si tratta di un'altra cosa ed è iniziato a fare l'exerci di questo. Questo 2試合 in quanto riguarda mi piace, ma questo ritroffo è continuo. Grazie, andiamo a tutti. Il secondo giorno, il primo 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 giorno, Qualche cosa hai detto ai giocatori? Ma quello che abbiamo tutti insieme, non è stato uno solo, però tutta la squadra ci si è accorto di che abbiamo fallito noi, secondo me. Non che l'altra squadra abbia fatto tanto di più. E quello ne siamo accorti tutti. Subito nel primo allenamento abbiamo già fatto di più, perché non volevamo fallire di nuovo nella stessa maniera. Quindi abbiamo imparato, forse troppo tardi, però abbiamo imparato da quello che abbiamo fatto e secondo me da adesso in poi non capirà più. Sì, io credo che la squadra è stata un'altra squadra di tutti i nostri giocatori. In questo senso, in questo senso, la squadra di raggiungeremo alla prossima giornata, e poi alla prossima giornata, la squadra di raggiungeremo alla prossima giornata, e quindi abbiamo fatto un po' tardi, però la squadra di raggiungeremo alla prossima giornata, perchè adesso non dipendi di noi, quindi è un momento tale. Sì. la performance si è riuscita a fare una performance migliore, sta giocando molto meglio, ovviamente questo è dato dal fatto che magari sta cercando di dare qualcosa anche alla squadra. Sicuramente è difficile arrivare in una squadra, un ragazzo nuovo e un ragazzo. Nuovo e adattarsi, quindi sono stati bravi molto anche loro a accogliermi e adattarsi un po' al mio gioco. Quando questo è iniziato a capitare, ha migliorato molto. Io ringrazio molto tutta la squadra, ma come avevo detto là nell'inizio, avevamo fatto un'intervista, solo il tempo può sviluppare una squadra, no? Se sei un giocatore singolo magari sviluppi un po' più veloce, però quando giochi in una squadra ci vuole un po' di tempo per sviluppare. E vediamo adesso che veramente le cose vanno meglio. Spero che sia il sufficiente per riuscire ad arrivare in finale. Grazie. 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 Grazie a tutti